Ciao a tutti, il nostro viaggio tra i maggiori esponenti della comunicazione continua. Oggi parleremo di Russell Reeves, pubblicitario statunitense, nacque a Dunville nel 1919, studiò per diventare avvocato, ma la grande depressione lo costrinse a cercare un lavoro e il suo primo impiego fu quello di reporter alla Richmond Times Dispatch. Nel 1934 lasciò la Virginia e si trasferì a New York per lavorare come inserzionista. Successivamente entrò a lavorare presso l'agenzia pubblicitaria Benton & Bowles, dove conobbe Ted Bates. Con quest'ultimo fondò nel 1940 la Ted Bates & Company, il quale nel giro di soli due anni dall'apertura arrivò a fatturare milioni di dollari, annoverando tra i suoi clienti principali marchi del calibro di Colgate, Continental Banking, Palmolive, Minute Maid e molti altri. Nel 1952 curò la campagna elettorale di Eisenhower per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Con Reeves nacque il concetto secondo il quale il consumatore non possiede i mezzi per comprendere più di un unico chiaro intendimento pubblicitario. Al consumatore non interessano gli orpelli della creatività, quanto piuttosto la unica verità trasmissibile. Per Palmolive, ad esempio, è celeberrima la campagna Bellezza Acqua e Sapone, che prometteva alle clienti di prendersi cura della loro pelle in 15 giorni. In questa campagna Reeves commissiona uno studio che investe ben 1285 signore interessate a lavarsi il viso tre volte al giorno con acqua e sapone, il tutto finalizzato a dimostrare la veridicità di una promessa di mercato. Per Reeves la vendita è proprio l'espressione della verità e a tal proposito asserisce che il vero ruolo della pubblicità è esattamente lo stesso del primo venditore che venne assunto dal primo produttore, sottrarre clienti alla concorrenza e continua dicendo che i nuovi pubblicitari non sono più venditori, sono diventati uomini di spettacolo. Se ne desume quindi che il ruolo principale della pubblicità è la vendita di un bene, finalizzato alla sua implementazione nel tempo. Per Reeves la pubblicità non ha alcun altro ruolo. Tra i suoi annunci più celebri, nonché tra i più esemplificativi della USP, ovvero l'Unique Selling Proposition, in italiano unico argomento di vendita, dove per unico si intende una caratteristica propria di un prodotto che non è a pannaggio della concorrenza, c'è quello delle caramelle M&M's. Si sciolgono in bocca, non in mano, usato ancora oggi. Bene, questo video termina qui. Voi continuate a seguirci sulle nostre pagine Facebook e YouTube. Ciao a tutti e alla prossima!